Il tuo 11 settembre dov'eri e cosa ti ricordi? Io ero a Napoli, in cucina, e mi ricordo che intravedevo in camera dei miei genitori la televisione. Ho visto, insomma, siamo tutti quanti appassionati di Die Hard, non so, no? Un film. Sembrano un film. Di per lì? Ah, ok. Un film. Poi mi sono reso conto che non era così. E c'è questa immagine, insomma, di l'aereo che colpisce in una delle prime tourne. Sì, però veramente è un film. La sensazione è stata quella, comunque a Napoli, il tuo 11 settembre. Non posso mai dimenticare che si è sposata mia sorella e deve partire il viaggio di nozze e non pure altro partire.